Troppo buoni gli involtini di frittata nel sugo, ricetta della nonna. Sguscia le uova, aggiungi il sale, il prezzemolo tritato e l'aglio. Dopo il formaggio grattugiato e il pan grattato. Sbatti con una forchetta fino ad ottenere un composto spumoso. Riscalda dell'olio in una padella e friggi il composto a base di uova fino ad ottenere una frittata. Quando è pronta, taglia la striscia e farcisci ogni pezzo con il prosciutto cotto e della provola. Taglia la striscia, studia l'involtino, fissa con uno stecchino di legno, cuoci dentro un sugo semplice di pomodoro. Al termine, riempi ogni striscia con del prosciutto cotto e della provola o altro formaggio a pasta filante. Arrotola e ferma ogni involtino con uno stecchino di legno. Continua così per tutto il resto delle strisce di frittata. Prepara una salsa semplice tipo pomodoro e quando è cotta, aggiungi gli involtini di frittata. Copri con un coperchio, fai cuocere circa 10 minuti fino a far diventare l'interno super filante. Ed eccoli qui, buon appetito amici! Buon appetito amici! Grazie a tutti!